Ciao a tutti, allora recensione sui rossetti wet and wild o meglio non solo recensione ma anche swatch e prova sulle labbra quindi sono un po' preoccupata perché i rossetti sono 19 e quindi dovrò struccare e ritruccare per 19 volte va bene però ci proviamo, non sono in realtà 19 in gamma ma sono 26 però io ritengo che di questi ce ne siano 7 veramente bruttissimi sono praticamente i colorini nude soprattutto, quelli beige aranciati, quelli proprio arancio che sono due uno Carrot Gold mi sembra, si chiami che è proprio arancio e l'altro Pure Tea Persimmon mi sembra che è un arancio un po' più forte sono due gradazioni di arancio, sono praticamente identici, uno più chiaro e uno più scuro e quei due quindi li trovo terribili e poi un po' i colorini, quelli più chiari in nude diciamo, li trovo proprio brutti effetto correttore, certi sono molto aranciati, li trovo terribili, non mi piacciono per niente per il resto mi piacciono tantissimo, tanto che appunto ne avevo già 3, 6, 9 e poi c'è stata la promozione all'OVS che è terminata ieri domenica l'11 e praticamente erano tutti scontati al 30% e quindi ne ho preso altri contate che sono rossetti che costano veramente pochissimo, alla fine mi sono venuti 2 euro l'uno quindi neanche il prezzo a cui di solito si compra un rossetto di marca, cioè con tutto il prezzo che ho preso ieri quelli che mi mancavano non ne avrei preso nemmeno uno di marca che sono un rossetto Dolce Gabbana piuttosto che Yves Saint Laurent eccetera che costano sui 30 euro allora che cosa penso di questi rossetti? l'ho già detto più volte in vari video, li trovo veramente ottimi o meglio tra tutti i rossetti di fascia low cost sono sicuramente a mio avviso i migliori e parlo di una fascia veramente molto low cost perché questi rossetti costano 2 euro e rotti credo 2,99 poi con lo sconto li ho pagati anche molto meno sono rossetti che secondo me si avvicinano moltissimo alla qualità dei matt di MAC addirittura quindi insomma stiamo parlando di rossetti che durano tantissimo hanno una gamma colore soprattutto per l'autunno, meravigliosa anzi forse sono più belli i colori autunnali che quelli estivi estivi ce ne sono pochi, credo un 6-7 massimo su una gamma di 26 poi ci sono un 6-7 nude, qualche colore acceso orribile molto aranciato e tutto il resto è veramente una gamma di colori meravigliosi per l'autunno quindi ne trovate veramente tanti, hanno diciamo azzeccato in pieno quella che è la tendenza dell'anno sui borgogna, sui prugna, sui rossetti molto scuri, sui mattone anni 90 uno più bello dell'altro, hanno anche qualche rosso veramente molto bello dei berry stupendi, adesso ve li farò vedere quindi niente cosa altro dirvi se non vedere pian piano gli swatch vi faccio vedere lo swatch sulla mano e il rossetto sulle labbra quindi potete vedere il colore e sullo stick sono 19 quindi pian piano vi lascerò anche il nome del rossetto scritto nel momento in cui ve lo mostro e niente spero che vi sia utile questa carrellata in modo da poter vedere così tutti quanti i colori indossati allora questo è il primo che vi faccio vedere si tratta di rose bud come vedete un rosa nude molto portabile abbinabile a veramente tantissimi look nello stick appare così appunto eccolo così si vede bene vi faccio anche ovviamente lo swatch sulla mano non rimane completamente opaco come vedete è leggermente satinato ma non è diciamo un colore lucido poi si opacizza anche un po' lo trovo veramente molto molto bello molto elegante molto adatto a look con trucchi appunto molto molto potenti come vedete ha una perfetta copertura cioè già con una passata questo è il risultato cioè non si tratta di rossetti che hanno bisogno di essere ripassati tante volte potete però ritoccarli quante volte volete perché non fanno strato rimangono sempre molto bene sulle labbra questo però è anche particolarmente morbido non è molto secco come colore assolutamente noto che forse più colore più pigmento scuro c'è più il rossetto diventa secco ma nessuno di questi è talmente secco da risultare fastidioso come che sono un retromatte di MAC quindi appunto rose bud allora altro colore sulla gamma del rosa è il mauve otta here che è questo colore ovviamente rosa con una bella percentuale di viola quindi un malva anche questo è abbastanza morbido quindi non dà nessun problema di stesura vi faccio lo swatch ecco qua colore come vedete subito pieno ho fatto una data e un ritorno diciamo di stesura e questo è il risultato come vedete subito veramente molto molto pieno veniamo a un colore nude veramente uno super chiaro io uso pochissimo questo tipo di rossetti ma ogni tanto quando magari faccio uno smoky particolarmente scuro tipo che so quando uso moltissimo il nero lo uso questo è bare it all ed è nello stick così sulle labbra come vedete non ha un effetto correttore ma insomma è particolarmente chiaro allora vi faccio vedere lo swatch sulla mano vedete questo è vedete come il colore è pieno anche questo è molto morbido un po' più matte del primo che vi ho fatto vedere come vedete meno satinato anche se non è super matte come un matte di MAC però è leggermente satinato quindi questo era bare it all sempre un altro colore per chi non vuole usare troppo quindi chi non vuole le labbra veramente troppe in primo piano diciamo che si può assolutamente inserire nella gamma dei nude non chiarissimi quindi in quei rossetti nude ma non effetto correttore si chiama in the flash nello stick è così e vi faccio anche in questo caso lo swatch eccolo qua mi piace molto ha quella punta di mauve che va tanto di moda quest'anno con spiked with room andiamo sempre più nella gamma dei rossetti che preferisco quindi questi toni molto anni 90 devo dire quindi vedete il colore non lo so neanche definire particolarmente è un mattone con un qualcosa di viola senz'altro quindi un colore marrone ha del marrone ma con un qualcosa di viola vi faccio lo swatch ed ecco lo stick quindi spiked with room altro colore della gamma dei marroni è sicuramente sand storm quindi tempesta di sabbia vi faccio lo swatch nello stick è così e quindi qua siamo veramente su un rossetto molto molto anni 90 marrone insomma vi deve piacere il genere ma è assolutamente un rossetto ah peraltro è anche questo molto morbido devo dire non ho riscontrato difficoltà di stesura marrone super scuro per il color mocha licious quindi veramente anche qui c'è una bella punta di viola secondo me però è proprio un marrone molto intenso insomma vi deve veramente piacere la gamma dei marroni se no tutti questi ultimi che vi ho fatto vedere probabilmente non saranno nelle vostre corde ecco il lo swatch sulla mano e vedete il colore dello stick passiamo ai colori decisamente più accesi decisamente più estivi anche e vediamo un po' la gamma dei rossi questo è uno dei miei rossi preferiti per la primavera e per l'estate e si chiama red velvet molto un colore veramente un rosso molto acceso molto fluo stupendo mi piace tantissimo tantissimo secondo me sta benissimo sia le ragazze molto scure molto scusate scure di capelli si volevo dire scure di capelli more insomma ma sta bene anche ad una bionda insomma è un rossetto abbastanza adatto secondo me d'estate a ricoprire una vasta tipologia di di donne insomma di tipi di donne dalla bionda la mora la castana è un rosso abbastanza classico per quanto tra dei rossi diciamo che si possono utilizzare magari più d'estate anche se io penso che lo porterò anche d'inverno vi faccio lo swatch eccolo qua e questo è nello stick lo trovo veramente meraviglioso ha un bel sottotono blu secondo me questo questo rosso è un po' rosso fragola diciamo quello che si si forse si definisce rosso fragola andiamo qui invece su un rosso corallo infatti questo rossetto si chiama coraline ed è un rosso sicuramente che ha dell'arancio dentro anche se non tanto da risultare sgradevole almeno per il mio gusto perché non mi piacciono i rossetti arancio e intanto scusate anche per l'applicazione che via via diventa più imprecisa ma ho il contorno labbra che mi va a fuoco anche perché sono un po' irritata in questa zona per via dell'applicazione della mia crema all'acido retinoico del quale poi vi parlerò perché me l'avete chiesto in tantissime e quindi man mano che strucco mi diventano sempre cioè stasera avrò due labbra canotto tipo effetto filler comunque questo è coralline vi faccio lo swatch sulla mano eccolo qua è sullo stick ve lo faccio ovviamente vedere altro rosso meraviglioso mi piace tantissimo questo forse insieme all'altro che vi ho fatto vedere che si chiamava red velvet è all'altro rosso che preferisco si chiama stop light red ed è un rosso con una forte componente di fucsia all'interno secondo il mio parere nello stick appare così è un rosso molto secondo me da serata molto da trucco con la riga di eyeliner nero quindi un po' da pin up vi faccio lo swatch sulla mano vedete che ha un po' di componente secondo me di rosso di fucsia ecco niente lo trovo veramente meraviglioso super super promosso uno dei miei preferiti in assoluto altro rossetto molto estivo è questo bel fucsia acceso che si chiama smoking hot pink è ovviamente un bel fucsia abbastanza evidente un classico colore direi primaverile scusate ma qui inizio avere aloni di sbavatura di rossetti precedentemente applicati non riesco più a fare tanto perché in questa zona sono molto secca quindi la pelle mi assorbe anche un po' di colore quando vado a struccarmi comunque questo è il rossetto in stick come vedete rimane molto più spento sullo stick che non sulle labbra vi faccio lo swatch sulla mano eccolo qua è un fucsia che mi piace tantissimo uno dei classici fucsia che prediligo in estate in primavera ma capita anche che io li metta d'inverno è niente di niente di strano che io osi un fucsia così intenso anche nella stagione invernale ed ecco un fucsia in stile candy yum yum di mac quindi un rosa super acceso shocking veramente secondo me relegato alla stagione primaverile estiva e basta così è nello stick e così è sulle labbra scusate se non guardo molto in camera ma cerco sempre di vedere se mi sto inquadrando bene se insomma un po' lo schermo mi mi distrae ecco qua come vedete è bello acceso è sicuramente un fucsio estivo ecco veniamo a una delle tinte più belle senz'altro che è il cherry picking questo berry rosso berry intensissimo stupendo meraviglioso per l'autunno quindi andiamo sulle tinte più autunnali restano tutti i colori da questo momento in poi strettamente autunnali a mio gusto e vi faccio lo swatch sulla mano di questo colore che è veramente qualcosa di questo è bellissimo altro colore in pieno trend autunnale quindi tutta la gamma dei berry dei prugnate bordeaux è senza dubbio il color sugar plum fairy questo meraviglioso ormai ho anche la mano vedete tutta rossa infatti li farò in questo in questo pezzo di mano rimasta libera qui vedete che ho un po' di alone di rosso ma ho provato in tutti i modi a struccare bene tra una passata e l'altra sto anche settando le labbra resettando scusate le labbra con il fondo ma più di tanto non si può fare sono comunque 19 colori da indossare quindi sugar plum fairy vi faccio vedere il colore swatchato che dire sono certa che sarà uno di quelli che tutte voi mi scriverete mi è piaciuto più di tutti insieme a quello che vi ho fatto vedere prima probabilmente il cherry picking questo quindi sugar plum fairy passiamo a questo colore che non so veramente ben definire vi stavo già facendo vedere lo swatch invece lo devo ancora fare questo colore non lo so ben definire si chiama wine room e ve lo faccio vedere nello swatch sulla mano eccolo qua torniamo un po' ovviamente sulla gamma dei mattone con molto rosa probabilmente è un marrone con moltissimo rosa all'interno quindi wine room sempre più scuri adesso in pratica abbiamo gli ultimi quattro compreso questo che vanno sempre più a scurirsi più o meno comunque sono di una gamma molto scura non guardate più il contorno labbra perché ormai è impresentabile ma comunque questo è raving raising vi faccio lo swatch tanto lo vedete bene anche dallo swatch sulla mano e sullo stick terzo ultimo colore siamo arrivati a cinnamon spice quindi di nuovo un rosso mattone il lo swatch è questo eccolo qua come vedete ha molto viola quindi secondo me è un mattone che ha una buona componente di prugna nello stick rimane così forse nello stick è più marrone come vedete quindi cinnamon spice allora penultimo colore quindi sempre più scuro è il cherry bomb come vedete è un bordeaux veramente super scuro vi faccio lo swatch qua sulla mano eccolo qua non so se non sono i miei preferiti questi così scurissimi perché magari mi sembra che non mi siano troppo bene però effettivamente sono talmente un must di stagione che è difficile non portarli almeno ogni tanto questo è uno dei più opachi forse però vedete sempre leggermente satinati restano e non sono completamente opachi come i matt di mac quindi diciamo che sono più simili senz'altro ai satin e siamo arrivati al rossetto più scuro di tutti che è il vamp it up veramente un nero prugna viola scurissimo quasi un rossetto da halloween diciamo che per le più è un rossetto importabile è veramente molto molto scuro e secondo me fa anche i denti un po' gialli insomma è un rossetto che bisogna saper portare bisogna essere particolarmente belle per metterlo quindi non è il mio caso bisogna avere una pelle secondo me molto candida dei denti perfetti insomma ci sono tante cosine comunque questo è lo swatch super scuro super dark avete se volete un rossetto per halloween e spendere veramente poco questo fa al caso vostro allora che cosa penso di questi rossetti questi rossetti me li avete sentiti nominare tantissime volte perché secondo me sono i rossetti di fascia low cost contate che a prezzo pieno mi pare che costino 2,99 se non sbaglio comunque se mi sto sbagliando nel caso ve lo scrivo qua quindi comunque sono ovviamente rossetti estremamente low cost laddove un rossetto Kiko costa intorno ai 7-8 euro capite che si tratta di un rossetto che costa la metà o anche meno per cui se Kiko lo consideriamo low cost qua stiamo veramente sullo stra low cost penso che siano quindi non solo i migliori di fascia low cost ma anche tra i migliori rossetti che ci siano rapporto qualità prezzo poi diventa imbattibile a mio modesto parere sono assimilabili come texture come durata come effetto sulle labbra i saten di mac quindi dei rossetti non duri da stendere assolutamente rimangono sempre piuttosto morbidi ma che assolutamente non si muovono di un millimetro dalle vostre labbra quindi non sbordano quindi non vi fanno l'effetto che ve li trovate per tutto il viso non seccano quindi sempre per questo motivo si fissano abbastanza non diventano completamente lucidi ma se ben tamponati non danno nemmeno l'aspetto saten possono essere anche abbastanza matte per cui voi li mettete li tamponati un po' con una velina e vedete che poi si fissano ancora di più l'effetto saten è proprio leggerissimo e comunque a me personalmente a volte piace non avere un rossetto troppo secco sulle labbra in certi magari periodi dell'anno in cui ho le labbra un po' più distrutte e quindi utilizzare dei rossetti come il retromatte di MAC o anche i matt risulterebbe veramente molto difficile quindi ottima stesura ottima durata una gamma colori come vedrete è veramente bellissima perché si tratta di colori fantastici molto molto nel trend di stagione soprattutto come ho detto per quanto riguarda gli autunnali ecco c'è una gamma fantastica che va da tutti marrone mattone vinaccia prugna berri e via via fino all'ultimo di gamma quello in pratica più scuro che è veramente un viola nero prugna squissimo quindi assolutamente dei rossetti super promossi a questo punto dopo questa faticaccia devo dire che è stato veramente ho il viso in fiamme mi sento tutta questa zona decorticata proprio o scorticata comunque stavo pensando di farvi gli swatch a gruppi di 6 o 7 colori raggruppando un po' i colori più o meno simili e inizierei con questa gamma appunto di colori quindi qualche rosa qualche nude che insomma tre più chiari e così man mano vi dico i nomi ve li metto qui qui a fianco uno all'altro man mano che vi dico i nomi e avete anche modo di paragonarli un po' fra di loro venendoli swatchati accanto allora ho pulito bene la mano come vedete è abbastanza non più colorata insomma e così partiamo e man mano vi faccio gli swatch allora inizierei con il bare it all che era proprio il nude quello più chiaro di tutti e ve lo faccio come primo qui eccolo qua quindi bare it all e via lo mettiamo via accanto ci metterei il sand storm che è sempre uno di quelli mattone marroni lo mettiamo qua a fianco quindi sand storm poi ci mettiamo il in the flesh eccolo qui poi poi continuiamo con il wine room poi ancora a fianco ci mettiamo lo spiked with room e poi mettiamo il rosebud e finisco con il move otta year ora vi farò magari un fermo immagine nel senso dove vi metterò sotto i nomi nell'ordine in cui li ho swatchati a partire da questo qua fino a quello sul pollice ora vi farò questa gamma qua di quelli diciamo più rossi più estivi più accesi questo a cui manca il bollino è il coralline quindi vi farò 6 swatch di queste tinte qua iniziamo con il iniziamo con il smoking hot pink ecco qua smoking hot pink proseguiamo con il don't blink pink andiamo ancora sullo sugar plum fairy eccolo qui accanto ancora gli metto il cherry picking e poi adesso qua sotto vi metto i due rossi che sono il coralline eccolo qua adesso vi faccio vedere il red velvet eccolo qua centrale quindi coralline questo red velvet questo e poi finiamo con lo stop light red che è questo qua quindi coralline red velvet e stop light red ultimi colori i più scuri della gamma e quindi questa gamma qua con lo scurissimo vampy tap cherry bomb e via via insomma tra quelli più chiari ma sempre appunto nella gamma di quelli molto scuri quindi vi sfocio gli ultimi cinque colori allora iniziamo con il mocha licious eccolo qua per poi andare sul ravine raisin eccolo qua poi vi metto il cinnamon spice eccolo qua il cherry bomb eccolo qua e infine il vampy tap eccolo qua anche di questi adesso vi scrivo qua da questo lato verso il pollice nomi e questo era tutto io spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto io veramente ci ho messo tipo quasi due ore a girarlo tutto perché mettere e togliere è stato piuttosto complicato fare tutti gli swatch insomma era un video che portava via un po' di tempo spero che ne sia valsa la pena perché so che molti di voi non trovano questi questi queste referenze questa marca scusate non mi veniva più il nome wet and wild non la trovano in tutti gli OVS perché molti OVS quelli che hanno utilizzato il metodo di raggruppare per tipologie di prodotto e non per tipologie di tutti i rossetti in un display tutti i rossetti in un display a prescindere dalla marca tutti i blush eccetera non hanno le referenze dei rossetti wet and wild e non hanno neanche tutte le referenze di tutti i marchi per cui trattano un po' tutti i rossetti che hanno utilizzato un po' di tutti i rossetti che hanno utilizzato questo pessimo sistema a mio avviso e infatti di wet and wild aveva soltanto qualche palettina basta non aveva nient'altro mentre ovviamente i rossetti sono un must della wet and wild quindi non puoi non averli quindi tornando a bomba vi volevo dire che chi di voi quindi non riesce ad acquistarli tramite l'OVS spero che possa prendere spunto da questo video per poter capire meglio quali sono i colori che le piacciono e ordinarli eventualmente sul sito di Douglas perché io sul sito di Douglas ho visto che sono disponibili e li potete quindi assolutamente acquistare e niente ragazze io spero di esservi stata utile vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao